All'insegna del rammarico ma anche della serenità, la ripresa degli allenamenti per il Catania. Sabato scorso costretto al pareggio casalingo dal Cagliari che ha pure dovuto inseguire. Un risultato che ha punito i Rosso Azzurri. Apparsi meritevoli della vittoria, al tempo stesso li ha inchiodati al penultimo posto. Nulla di compromesso, comunque ha ribadito anche oggi pomeriggio Francesco Fedato, al via degli allenamenti in vista del confronto esterno con il Sassuolo, decisivo secondo l'attaccante Rosso Azzurro. È una finale e vincendo possiamo ancora dire la nostra nel campionato, perché fortunatamente le altre squadre stanno perdendo. Non dico che sabato sia un punto guadagnato, perché vedendo la partita c'era solo una squadra in campo. Però dobbiamo ripartire, secondo me, dalle buone cose che abbiamo fatto sabato. È brutto dire da domenica, ogni sabato diciamo da domenica, da domenica. Però è così, perché se le altre squadre non vincono, comunque i punti rimangono sempre a disposizione. E sono sicuro che con l'ottimo gruppo che abbiamo e l'obiettivo, secondo me, si può raggiungere. Domani, doppia seduta di allenamento per i Rosso Azzuri, mentre è già scattata la prevendita in vista della gara di Sassuolo, che si concluderà alle 19 di sabato prossimo. Domani pomeriggio, invece, partirà quella relativa al confronto con la Juventus, in programma domenica 23 al Massimino, con inizio alle 20.45.